Sempre più isola dello sport e sempre più isola della vela. Anche questo evento che sta per iniziare porterà gente da oltre 17 nazioni di tutto il mondo, atleti da tutto il mondo ed è un ulteriore investimento azzeccato. Io sono molto soddisfatto perché questi eventi stanno portando una stagione molto più lunga. Come ho detto in altre occasioni avremo numeri da record e non è un caso che ci sono tanti stranieri. Avremo sempre una promozione più forte, sempre un investimento più azzeccato, sempre un'economia della stagione che grazie agli eventi, soprattutto anche agli eventi sportivi, è più ricca. Tutti questi eventi vengono promossi dagli influencer naturali che sono gli atleti, ma soprattutto poi dalla stampa nazionale, locale, internazionale. Quest'anno noi toccheremo dicembre, quando chiuderemo la stagione, avremo 8 milioni circa di arrivi. Ne avremo un milione in più rispetto al 2019, sono numeri veri e numeri certificati.